La riapertura al traffico della strada provinciale 51 dopo la chiusura per il rischio crollo del ponte Tanagro è stata al centro del vertice che si è tenuto questa mattina in provincia di Salerno alla presenza anche del sindaco di Sassano Domenico Rubino che si è detto particolarmente soddisfatto delle decisioni assunte dall'ente provincia in riferimento alla programmazione definita per la riapertura e la circolazione del tratto che sta provocando notevoli disagi alle comunità. Tempi di completamento previsti entro la fine di dicembre, si dice fiducioso sulla rapidità dell'intervento il primo cittadino sassanese. Nel corso della mattinata i tecnici della provincia hanno illustrato nel dettaglio il progetto mostrandolo ai referenti dei comuni interessati che prevede l'abbattimento del ponte esistente per poi provvedere alla realizzazione di un ponte ex novo. Opere queste che secondo quanto indicato dalla provincia dovrebbero partire entro l'estate per riuscire a completare l'intero intervento entro la fine dell'anno con conseguente riapertura al traffico veicolare dell'arteria. Il tratto di strada quindi resterà interdetto al traffico per molti mesi ancora e per ovviare alle difficoltà degli utenti alleggerire anche il traffico sulla strada provinciale Trinità-Silla dalla provincia di Salerno sono stati previsti interventi di messa in sicurezza di via Ascolese proprio come percorso alternativo che colleghi comuni di Sassano e Padula. I lavori su via Ascolese dovrebbero iniziare a breve si spera entro il prossimo mese di marzo. Un incontro che pare abbia raccolto la soddisfazione del sindaco Domenico Rubino che aveva sollecitato l'intervento della provincia di Salerno visti notevoli disagi per le comunità interessate. Rubino infatti al termine dell'incontro si è detto particolarmente soddisfatto delle decisioni assunte dalla provincia ma soprattutto fiducioso che la problematica possa risolversi in tempi celeri.